Musica Oggi a Meloni incontra i familiari delle vittime del naufragio di steccato di Cutro. Decisa l'amministrazione giudiziaria per Eurospin Sicilia. Ancora sangue sulle strade calabresi, sulla A2 del Mediterraneo, incidente mortale nei pressi di Altiglia. I detenuti del carcere di Locri donano al Papa un presepe realizzato con sapone e farina. Ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. Si è tenuto a Palazzo Chigi l'incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alcuni parenti delle vittime del naufragio di steccato di Cutro. Si è tenuto a Palazzo Chigi l'incontro della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con alcuni parenti delle vittime superstiti della tragedia di Cutro, accompagnati da mediatori che hanno consentito la traduzione da e verso le lingue madri. Presenti per il Governo, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ed il sottosegretario e la presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Il gruppo, formato da una trentina di persone, è volato a Roma dalla Calabria a bordo di un C-130 dell'Aeronautica Militare e poi a bordo di un pullman della polizia sono stati condotti nella sede del Governo. I superstiti e i familiari delle vittime del naufragio di Cutro hanno ringraziato la Premier per gli aiuti da parte del Governo. La Premier, Giorgia Meloni, ha garantito che proseguirà la ricerca delle salme, incluse quelle imprigionate nel barcone, ancora incagliato sul fondale. La Meloni ha assicurato l'impegno diplomatico dell'Italia in sede europea per dare seguito alle richieste di accoglienza e di ricongiungimento in altri paesi europei, in particolare in Germania, per un Afghanistan libero e rispettoso dei diritti umani, in particolare di quelle delle donne, per superare le diverse crisi che hanno colpito Pakistan, Palestina e Siria. La DIA e la Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno sottoposto ad amministrazione giudiziaria un'azienda leader nel settore della grande distribuzione alimentare che ha oltre 100 punti vendita e 2.500 dipendenti. Nel luglio dello scorso anno, la DIA e la Guardia di Finanza di Reggio Calabria, grazie all'operazione Planning, avevano dato corso a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 12 persone, 8 in carcere, 4 agli arresti domiciliari, gravemente indiziate a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno, associazione per delinquere, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio, trasferimento flaudolento di valori. Tutti comunque aggravati dalle modalità mafiose e avevano anche sequestrato numerose imprese sia in Italia che all'estero, 31 unità immobiliari, quote societarie, disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 32 milioni di euro. Le indagini però non erano concluse e ora sempre la DIA e le Fiamme Gialle Regine hanno provveduto ad applicare la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria nei confronti di una società per azioni con sede nella città di Catania. Il noto marchio operante nel settore della grande distribuzione alimentare è presente con oltre 100 punti vendita sia in Calabria che in Sicilia, con un fatturato annuo di 900 milioni di euro e 2.500 dipendenti. Queste ulteriori indagini avrebbero permesso di accertare che l'azienda intratteneva un rapporto stabile con esponenti dell'andrangheta o collusi con questa. In particolare sarebbe stato accertato che l'edificazione e la ristrutturazione di alcuni punti vendita presenti in città e nella provincia del capoluogo Regino sarebbero avvenuti attraverso imprese formalmente intestate a prestanome ma di fatto gestite da imprenditori contigui alla criminalità mafiosa locale, facendo anche in maniera indiretta l'arricchimento delle consorterie criminali. Da qui la necessità di limitare l'ingerenza della criminalità nel tessuto economico calabrese disponendo all'amministrazione giudiziaria per un periodo di un anno. Un nuovo incidente mortale è avvenuto sulla strada A2 del Mediterraneo nel comune di Altiglia in provincia di Cosenza. Un morto e tre feriti gravi e il bilancio dell'incidente è avvenuto sul tratto di strada. Sono in corso ancora accertamenti per stabilire le cause. Tre gli automezzi coinvolti, un furgone, un'autovettura Citroen e un trattore stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza e urgenza 118 che hanno anche chiesto e ottenuto l'invio di un elissoccorso per trasportare in ospedale i feriti. Nell'impatto tra l'auto e il camion e il furgone è deceduto un uomo di 70 anni mentre risulta gravemente ferita la donna passeggera di 44 anni. Il camionista ha riportato delle ferite lievi, traumi vari anche per il conducente del furgoncino. Sul posto sono presenti l'ANAS e le forze dell'ordine. Spunta un nuovo pentito di indrangheta a Reggio Calabria. Si tratta di Carmine Pablo Minerva, ora in carcere per estorsione. C'è un nuovo pentito di indrangheta a Reggio Calabria. Si tratta di Carmine Pablo Minerva, di 50 anni, arrestato l'anno scorso per tentata estorsione ai danni di due ditte edili che stavano ristrutturando un fabbricato nella zona di San Giorgio Extra, un quartiere a ridosso del centro cittadino e controllato dalla Cosca. Caridi federata alla famiglia mafiosa dei libri. Nel marzo 2022 Minerva era stato arrestato assieme a Giovanni Zindato, coinvolto anche lui in passato nell'inchiesta di alta tensione perché ritenuto uomo di fiducia del boss Nino Caridi. Da diverse settimane Minerva è diventato collaboratore di giustizia e sta parlando con i magistrati della direzione distrittuale antimafia di Reggio Calabria guidati dal procuratore Giovanni Bombardieri. Il pubblico ministero Walter Ignazzitto ha depositato i primi due verbali di Minerva nel processo pedigree contro la Cosca Serraino. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Scalea. I tre sono accusati in concorso dell'omicidio di Francesco Prisco, l'uomo di 32 anni gravemente ferito in un agguato avvenuto a Tortora nel terreno cosentino la notte del 17 febbraio e morto dopo una decina di giorni all'ospedale di Cosenza. I provvedimenti di arresto sono stati emessi dal GIP di Paola su richiesta della procura. Prisco, nella notte dell'agguato, era stato raggiunto da alcuni colpi sparati da un fucile calibro 12 mentre rientrava a casa a Tortora, a fare fuoco a seguito di un litigio avuto con la vittima da un'auto. Il 42enne era stato colpito in diverse parti del corpo, poi successivamente trasportato e soccorso nell'ospedale di Cosenza, dove morì a distanza di alcuni giorni. Gli uomini dell'arma hanno intensificato i controlli e sviluppato importanti sinergie con altre istituzioni, in particolare con la Regione Calabria, per migliorare l'attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. L'impegno dei carabinieri per prevenire gli incendi boschivi continua senza interruzione anche in inverno. Identificati e denunciati autori di roghi, controlli e sanzioni per pascole e caccia abusivi sulle aree percorse dal fuoco. Le attività in corso, quindi, rappresentano un presupposto fondamentale per prevenire la solita emergenza estive. La salvaguardia dell'ambiente è di interesse comune e, pertanto, è necessario tutelare il patrimonio naturale del territorio, contrastando comportamenti, spesso illegiti, che mettono a rischio la natura e i suoi abitanti. Su questi presupposti si inserisce l'impegno costante dei carabinieri anche in provincia di Catanzaro per difendere l'ambiente di ogni tipo di minaccia. Una delle minacce più aggressive e pericolose, di cui si parla solo durante la stagione estiva, quando ormai esplosa l'emergenza, sono proprio gli incendi boschivi, causati da comportamenti dolosi o colposi dell'uomo, che ogni anno distruggono migliaia di ettari di aree boscate, alterando inevitabilmente l'ecosistema. Per fronteggiare questo fenomeno, i carabinieri hanno intensificato i controlli e sviluppato importanti sinergia con le altre istituzioni interessate, in particolare con la Regione Calabria. Basta ricordare il protocollo siglato tra l'arma in Calabria e la Regione Amministrativa per migliorare l'attività di prevenzione e di contrasto degli incendi boschivi. Con questo intento, già alla fine dell'estate, i carabinieri del Comando Provinciale e quelli del Gruppo Forestale di Catanzaro hanno continuato a lavorare anche dopo la fine dell'emergenza estiva su due importanti fronti convergenti. Il primo, la prevenzione attuata mediante i servizi di controllo e alle attività di sensibilizzazione sul territorio che vengono svolte in questo periodo, ovvero fuori stagioni incendi, per attuare già da ora comportamenti finalizzati a ridurre il rischio ed a fare da deterrente verso azioni dolose, che purtroppo rappresentano ancora una parte consistente delle cause di incendio boschivo. Il secondo, la ricerca dei responsabili degli incendi dolosi avvenuti la scorsa estate e l'individuazione di soggetti interessati allo sfruttamento delle aree percorse dal fuoco. Per avere una stima sull'efficacia del metodo e delle sinergie istituzionali avviate, l'arma della Calabria, nel contrasto agli incendi boschivi, ricorda che nel 2022 su tutto il territorio regionale la superficie di aree boscate interessate da incendi è diminuita dell'80% rispetto all'anno precedente, mentre in provincia di Catanzaro la riduzione è stata ancora più consistente, ovvero pari al 91%. I controlli e le indagini che i carabinieri stanno svolgendo in questo periodo e che continueranno a svolgere nei prossimi mesi sono finalizzati proprio a scoraggiare da ora eventuali malintenzionati e quindi a far diminuire ulteriormente gli incendi nella prossima stagione estiva. Cambiamo l'argomento. Il PD di Crotone dice no e ha invitato tutti i comuni della provincia a deliberare un documento contro l'autonomia differenziata di Calderoli. È una delle battaglie principali che la nuova segreteria regionale ha voluto intraprendere, quanto afferma il segretario regionale del PD, Leo Barberio. Il PD di Crotone dice no all'autonomia differenziata, ma lo deve dire tutto il territorio provinciale, insieme al Consiglio dell'ente intermedio. Lo hanno affermato il segretario provinciale del PD di Crotone, Leo Barberio, la Presidente della Federazione Caterina Gilasole e la Vice Presidente Giussi Squillace, presso la sede di Piazza Pitagora. L'autonomia differenziata aumenterebbe il gap tra nord e sud, privilegiando le regioni più attrezzate. Sì, abbiamo avviato subito dopo l'elezione della nuova segretaria nazionale, una prima battaglia politica che la segretaria ha voluto mettere al centro del dibattito del PD e quindi partiamo da qui, dall'autonomia differenziata che in questo momento è il male dei mali per questo territorio. Quindi faremo una campagna di sensibilizzazione all'interno sia delle istituzioni che dei cittadini con una raccolta firme che parte domenica con i gazebo in piazza e nel prossimo mese porteremo in tutti i consigli comunali della provincia di Crotone una proposta di delibera contro il DL Calderoli. Già il comune di Reggio Calabria si è espresso contro l'autonomia differenziata. Adesso tutta la provincia di Crotone, con i suoi 27 comuni, deve deliberare contro il decreto di Calderoli. Sì, anche il consiglio comunale di Crotone si è già espresso ma essendo un partito radicato nel territorio penso sia opportuno che, come ha già riportato Nicola Irto, venga avviata una campagna di sensibilizzazione nelle istituzioni in tutte e 404 comuni della Regione Calabria. Quali sono le motivazioni del no? In questo momento sostanzialmente il primo e il principale no è dovuto alla creazione di un'autonomia differenziata senza partire dai LEP e quindi dai livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali. Se non si parte da quello un'autonomia vera non si potrà realizzare e quindi avremo comunque due itali, una di serie A e una di serie B. Il Governo sta dimostrando nei fatti che le proposte che sta mettendo in campo non sono proposte accettabili o condivisibili o per le quali noi possiamo avviare una discussione con il Governo per qualcosa che unisca tutti perché facciamo tutte parte della Repubblica Italiana. Una raccolta firme non solo nella città capoluogo di provincia ma in tutti i comuni del territorio. Sì, alla fine si concluderà con un referendum sicuramente sul quale possiamo dire la nostra e farla dire anche ai cittadini. Sicuramente non sarà una cosa che si ferma allo Stato-Regioni o in Parlamento si andrà anche al voto. Un presepe realizzato con farina e sapone è quello realizzato dai detenuti del carcere di Locri che hanno preso parte all'udienza generale per donarlo poi al Papa. I carcerati di Locri hanno vinto il concorso dei presepi. Una sensazione di sorpresa è quella vissuta dai detenuti del carcere di Locri che hanno preso parte all'udienza generale per donare il loro presepe al Papa realizzato con sapone e farina. L'opera è la più meritevole tra le 63 realizzate dagli ospiti di vari istituti di pena italiani. I carcerati di Locri hanno infatti vinto il concorso dei presepi bandito lo scorso anno dall'Ufficio Ispettorato Generale dei Cappellani del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Dipartimento di Giustizia Minorile. Mettendo in campo tutta la loro fantasia e creatività hanno realizzato un presepe davvero originale utilizzando materiali naturali come sapone e farina racconta Caterina Rotta, direttore del carcere accompagnata al commissario Giuseppe Ramondino. L'alta funzionaria ha confidato con quale emozione e ingegno gli stessi detenuti avessero preparato anche la teca per trasportare il presepe in piazza San Pietro. Il cappellano militare Don Crescenzo De Mizio ha commentato la meraviglia vissuta dai detenuti nel momento in cui hanno acquisito consapevolezza che ci forse verso di loro un segno di attenzione in questo caso addirittura da parte delle pontefice che non scorda mai gli ultimi. Il sacerdote ha poi ricordato come queste persone vivono un emisfero caratterizzato dall'attesa di libertà e riscatto. La Lilt di Vibo Valencia avvia una campagna di prevenzione nelle scuole per prevenire i tumori maschili. Anche la sezione provinciale di Vibo Valencia della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sarà parte attiva della campagna di prevenzione contro i tumori maschili. Obiettivo di questa campagna è quello di portare a conoscenza dei giovani maschi l'importanza dell'autopalpazione testicolare, così come viene nella donna per l'autopalpazione del seno. La campagna prevede due date, venerdì 17 marzo presso l'Istituto Nautico di Pizzo e venerdì 31 marzo presso l'Istituto Alberghiero di Vibo Valencia per un incontro con gli studenti che si concluderà con la possibilità di 10 visite urologiche con ecografia testicolare gratuita su adesione volontaria e previa autorizzazione dei genitori. Volevo dare la giusta importanza alla prevenzione uroandrologica nella fascia d'età che va dai 16 ai 30 anni, in quanto purtroppo non essendoci più la vista di leva questi giovani ragazzi che saranno gli uomini del futuro non sono visti o visitati da nessuno e questo purtroppo per noi è un problema dal punto di vista futuribile in quanto le patologie che possono essere trattate in maniera preventiva in età giovanile purtroppo ce le ritroviamo oggi all'età di 40 anni con problematiche importanti come le neoplasie testicolari, il varicocele, le fimosi, tutte le patologie correlate all'apparato genitale maschile e non solo. I dati epidemiologici registrano che ogni anno circa il 55% dei tumori maligni vengono diagnosticati agli uomini rispetto al 45% diagnosticato alle donne. Il nostro incontro riguarderà soprattutto la prevenzione del tumore del testicolo il tumore del testicolo che seppur non è uno dei tumori più frequenti rappresenta soprattutto nel giovane adulto un tumore estremamente frequente tra la ventesima e il trentesimo anno di età. Diciamo che il tumore del testicolo è un tumore che può comportarsi in maniera estremamente aggressiva ma nel caso in cui facciamo una diagnosi precoce possiamo raggiungere dei tassi di guarigione sino al 99% da qui l'importanza di fare una diagnosi precoce. Come facciamo a fare diagnosi precoce? La diagnosi precoce viene eseguita, effettuata grazie all'autopalpazione da parte del ragazzo quindi è importante istruire i giovani a eseguire almeno una volta al mese l'autopalpazione dei testicoli in modo da poter riscontrare eventuali anomalie, irregolarità di superficie, di consistenza che li devono portare immediatamente a recarsi dal medico curante. Questo può far sì che si giunga a un diagnosi precoce e salvare la vita al paziente. È tutto per questa edizione e grazie per aver seguito il nostro TG. Vi lascio ora con le notizie dall'Italia e dal mondo. Grazie a tutti. Alla luce dei problemi degli ultimi giorni nel settore bancario. Le turbulenze che hanno sconvolto le borse nei giorni scorsi entrano comunque nel comunicato del Consiglio direttivo dell'Eurotower che dice di seguire con attenzione le tensioni in atto sui mercati ma sottolineando che il settore bancario dell'area dell'euro è dotato di buona capacità di tenuta con solide posizioni di capitale e liquidità. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi alcuni parenti delle vittime e i superstiti del naufragio di Cutro. Giorgia Meloni ha garantito che proseguirà la ricerca dei dispersi ed ha assicurato l'impegno diplomatico dell'Italia in sede europea per dare seguito alle richieste di accoglienza e di ricongiungimento in altri paesi europei, in particolare in Germania. Nell'incontro blindato la Premier si è commossa quando i parenti si sono appellati al suo ruolo di madre poi ha chiesto se fossero consapevoli dei rischi legati alle traversate nel Mediterraneo e si è sentita rispondere dagli afghani presenti che loro sono stati abbandonati in un paese dove non si può vivere dal quale è naturale desiderare di fuggire. Il caso del drone di sorveglianza americano che si è schiantato nel Mar Nero fa salire la tensione fra Washington e Mosca. Il Comando Europeo delle Forze Armate americane ha rilasciato il video dell'impatto tra il drone e il jet russo e secondo quanto reso noto dalla CNN le forze di Mosca hanno raggiunto il luogo dell'incidente. Per evitare l'escalation c'è stata una telefonata tra i ministri della difesa di Stati Uniti e Russia. Ancora due arresti legati alla latitanza di Matteo Messina Denaro le indagini sulla rete di complici che ha protetto il boss hanno portato infatti in carcere per favoreggiamento aggravato dal metodo mafioso Emanuele Bonafede, nipote del boss di Campobello di Mazzara Leonardo Bonafede e la moglie Lorena Ninfa Lanceri a incastrare la coppia di fiancheggiatori una foto del boss scattata a casa dei due coniugi. La foto nel salotto dell'abitazione risale a qualche anno fa e mostra solo il corpo dell'allora latitante al quale è stato appositamente tagliato il volto. Dopo gli scontri a Napoli tra i tifosi dell'Aintracht e quelli azzurri avvenuti prima e dopo il match di Champions League le forze dell'ordine hanno compiuto i primi arresti. Sono otto le persone fermate, tre ultratedeschi e cinque napoletani sei feriti tra le forze dell'ordine. Il bilancio presentato dalla questura è ancora parziale si tratta stando a quanto emerso di una prima tranche di arresti e il numero delle persone coinvolte potrebbe crescere nelle prossime ore. Infatti è attualmente ancora in corso la completa identificazione di tutti i tifosi tedeschi giunti a Napoli la cui posizione verrà avvagliata per aver organizzato una manifestazione non preavvisata nonché per ogni altro reato che in base alle indagini sarà ritenuto attribuibile a loro. Sparisce la musica protetta dalla SIAE, da Instagram e Facebook. purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con SIAE ha reso noto un portavoce di Meta replica piccata della SIAE che parla di scelta incomprensibile e unilaterale da parte di Meta la decisione avrà un impatto sui Reels, sulle storie e sui feed di Facebook e Instagram su Facebook i contenuti che rientrano nel repertorio SIAE verranno bloccati mentre su Instagram verranno silenziati. Grazie per la visione!